Lettura, Vangelo e Commento Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saul senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul. Poi disse ai suoi uomini, mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio Signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore. Davide astento dissuase con le parole i suoi uomini e non permise loro che si avventassero contro Saul. Saul uscì dalla caverna e tornò sulla via. Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul, o re, mio Signore. Saul si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul, perché ascolti la voce di chi dice, ecco, Davide cerca il tuo male. Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna, mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te e ho detto, non stenderò le mani sul mio Signore, perché egli è il consacrato del Signore. Guarda, padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano, quando ho staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque e vedi che non c'è in me alcun male né ribellione, né ho peccato contro di te, invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla. Sia giudice il Signore tra me e te e mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti, ma la mia mano non sarà mai contro di te. Come dice il proverbio antico. Dai malvagi esce il male. Ma la mia mano non sarà contro di te. Contro chi è uscito il re d'Israele? Chi insegui? Un cane morto, una pulce. Il Signore sia arbitro e giudice tra me e te, veda e difenda la mia causa e mi liberi dalla tua mano. Quando Davide ebbe finito di rivolgere a Saul queste parole, Saul disse, è questa la tua voce, Davide, figlio mio? Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolto a Davide, tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene, mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me e che il Signore mi aveva abbandonato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il suo nemico e lo lascia andare sulla buona strada? Il Signore ti ricompensi per quanto hai fatto a me oggi. Ora, ecco, sono persuaso che certamente regnerai e che sarà saldo nelle tue mani il regno d'Israele. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì dodici, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Buanerges, cioè, figli del Tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Parola del Signore Lode a te, o Cristo Commento al Vangelo Ciao a tutti e che Dio vi benedica, possa essere con voi, con le vostre famiglie, ed ora qui con noi, nelle nostre menti e nei nostri cuori, per poter comprendere questo importantissimo brano del Vangelo. In quel tempo Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che voleva, ed essi andarono da Lui. Quindi, prima che il tempo fosse, Gesù chiamò ognuno di noi all'esistenza. Nessuno può resistere a questa chiamata, né costituì dodici che chiamò Apostoli. Nella scelta, prima della creazione del mondo, ci ha anche destinati ad essere santi. Ci chiama in Cristo e in Lui ci modella, dandoci le qualità per essere Suoi figli. Ad ognuno destina una vocazione, e solo alla luce di quella vocazione possiamo comprendere le nostre qualità. La nostra vocazione, poi, è la parte che ci ha affidato nella redenzione. La vocazione è la scoperta di quell'intimo perché all'esistenza, quando sento di essere davvero e pienamente me stesso, quando vivo quella vocazione che Dio aveva pensato per me all'inizio del tempo. E Dio chiama tutti, anche i diavoli, poiché fra i dodici, uno di loro era così. È dunque la scelta che ci permette di vivere la nostra vocazione. E perché ci ha chiamati? Per amore, per stare con Lui. E questo implica una corrispondenza in una scelta che è totalmente libera e personale. È dono, ma anche impegno. Santità, per mezzo della preghiera e dei sacramenti, è inoltre una lotta personale contro le forze delle tenebre che abitano nel nostro cuore. Inoltre, grande è il regalo che Gesù fa a ognuno di noi in questo passo del Vangelo, perché fin dagli inizi della vita pubblica Gesù sceglie questi dodici uomini perché stiano con Lui e prendano parte alla Sua missione, li fa partecipi della Sua autorità e li manda ad annunziare il Regno di Dio e a guarire gli infermi. E ancora oggi questo accade nella Chiesa, che è il lascito di Gesù per la nostra salvezza. Una luce quando ogni luce si spenge. E noi tutti siamo chiamati a portare questa luce perché possa essere un faro per i nostri amici, per i nostri cari, per coloro che si sono persi nel buio e possano così ritrovare la strada. Se questo video ti è stato utile, con poco puoi sostenere questo canale, scopri come nella descrizione e ricorda che insieme possiamo diffondere fede e speranza. Con gratitudine, Daniele